tutti quanti noi quando adottiamo un cane sogniamo di poter fare passeggiate tranquille rilassanti con il cane eppure per qualcuno di noi invece la passeggiata si trasforma in un vero e proprio incubo in un disastro perché portiamo fuori il cane si mette a tirare al guinzaglio e non riusciamo più a goderci la passeggiata oggi abbiamo con noi un amico che si chiama vuoli è un cane un golden retriever meraviglioso è davvero molto bravo in tutto l'unica cosa che ha è che tira in modo pazzesco al guinzaglio la passeggiata al guinzaglio è qualcosa che noi tutti sogniamo prima di adottare un cane come rilassante come qualcosa che ti possa permettere di eliminare il tuo stesso stress come qualcosa che ti permette di stare nel verde eppure tante volte si trasforma in un incubo vediamo come possiamo risolvere questo problema la prima cosa di cui ci dobbiamo occupare sostituire il collare con una pettorina e il guinzaglio corto con un guinzaglio lungo vi faccio vedere come potete farlo facilmente ok questo è un bocconcino faccio passare la testa del cane nella pettorina dopodiché mi metto di lato non di fronte in modo da non abbracciare il cane non incombere su di lui allaccio questo da una parte e questo dall'altra prima di sganciare il vecchio collare e il guinzaglio prima aggancio questo dopodiché sgancio il vecchio guinzaglio e tolgo il collare bravo vuole molti mi chiedono che cosa fare con il guinzaglio visto che è così lungo il punto che non siamo costretti a tenere il guinzaglio della maniglia andarcene in giro così per strada quello che dobbiamo fare che ogni volta che ne abbiamo la necessità lo possiamo accorciare così ogni volta che il cane si allontana da noi lo facciamo scorrere attraverso le mani ogni volta che invece ci serve di accorciare il guinzaglio lo facciamo scorrere in questo modo è molto semplice principio numero uno per non far tirare il cane che quando il guinzaglio è teso bisogna fermarsi si sposta il peso del corpo sulla gamba di dietro si aspetta che il cane abbia il guinzaglio morbido e quindi si procede a camminare in questo caso si lavora con le braccia lunghe peso del corpo indietro guinzaglio morbido e si va il cane annusa la possibilità di trovare un odore e rimanerci su un po nel frattempo vado avanti lo aspetto direzione del corpo che guarda nella direzione in cui io voglio andare e aspetto che abbia finito il fatto di essere davanti a lui in questa direzione dice al cane appena avrei finito dovrei venire di qua e gli mette anche un pochino più di fretta visto che la passeggiata è dedicata al cane non abbiamo problemi a fermarci e questo lo rilassa così e ancora qui mi giro così benissimo ora posso scegliere se andare da quella parte di qua o di qua o dietro da questa parte andiamo e il cane segue bravissimo mi fermo ecco il fatto che comunichi in questo modo col cane sei già in rapport con lui c'è già sintonia per cui il cane aspetta quello che fai tu ne lo fa anche lui ma che bravo neanche un bocconcino l'incontro con gli altri cani è un argomento molto speciale perché i cani comunicano tra di loro usando il corpo perché quando ti devi avvicinare agli altri cani hai necessità di spazi distanze quello che bisogna sapere è che la pettorina e il guinzaglio lungo aiutano in questo ma è un argomento talmente speciale che gli dedicheremo un episodio intero i risultati avuti con wally sono stati eccellente ora non tutti potrebbero avere nell'immediato tutti questi risultati se qualcosa dovesse andare storto a casa quindi consigli che abbiamo appena dato potrebbero rivelarsi poco produttivi è necessario rivolgersi ad un educatore cinofilo ora un bravo educatore cinofilo quantomeno non usa il colare a strangolo è solo uno strumento di tortura questo vorrei che passasse chiaro se il cane resterà a casa chiuso per una settimana intera lo tiriamo fuori soltanto per la passeggiata dalla domenica quasi certamente si metterà a tirare la guinzaglia goderci noi stessi la passeggiata influenza il cane ad essere più tranquillo e più il cane sarà tranquillo più noi ci potremmo godere la passeggiata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti